A Palermo gli studenti della scuola Danilo Dolci, istituto di frontiera in un quartiere difficile come Brancaccio, ottengono l'uso di alcuni locali confiscati alla mafia che finalmente sono stati assegnati loro. Laura Preite. La prima cosa che diventerà sarà ovviamente anche l'auditorium per le riunioni dei docenti. Diventerà la palestra dei nostri ragazzi che non hanno signori, i nostri ragazzi non hanno una palestra. Studenti e insegnanti del liceo Danilo Dolci, quartiere Brancaccio di Palermo, hanno vinto la battaglia che li ha visti impegnati a rivendicare l'uso dei magazzini Brancaccio, bene confiscato alla famiglia Yen del clan Graviano nel 2000 e che due mesi fa hanno rischiato di perdere. Con una lettera la società che gestiva l'immobile li chiedeva lo sfratto. Poi la mobilitazione anche della TGR Sicilia e la decisione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati che ha con decreto ceduto i locali alla città metropolitana che a sua volta li ha date alla scuola. Questa mattina la firma alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Arturo Guarino e del prefetto di Palermo. I beni sono confiscati, devono essere gestiti ma devono essere riutilizzati. In questo caso l'impegno della città metropolitana e quindi poi della scuola in quanto destinatario dell'impegno della città metropolitana mi sembra un buon auspicio, una buona modalità. Essere oggi qui è motivo di orgoglio e soddisfazione perché dopo veramente tante lotte, tante battaglie, oggi un bene così che può essere veramente utilizzato in tantissimi modi viene assegnato a una comunità che non ha tanto bisogno.